Ciao ragazzi, oggi vi mostro il pacco che ho ricevuto da parte di Nixie. Nixie vende pantofole a forma di unicorno ed è fantastico per i vostri bambini, ma io adoro le pantofole belle, perusciose, calde. Adesso vi faccio vedere lo specifico. In particolare Nixie spedisce in tutta Italia. Ha tre diversi colori, tra cui tra l'azzurro, il viola, ma anche il rosa. E ogni colore ha un significato, quindi adatto per i vostri bambini, ma io non vedo l'ora già di indossarle a diverse misure nel sito che vi lascio qui sotto. Adesso vi faccio vedere. Vediamo qui. Wow, sono meravigliosa, guardate. Io ovviamente ho preso la misura più grande, perché ho il piede grande. Adesso li apriamo. No, vabbè. Guardate cosa c'è qua. A parte che comunque il corno brilla. E poi sono molto molto morbide. Poi ha questa suola anti-scivolo. Vremente ottima. E all'interno è in pile. Qui c'è l'elastico, che comunque calza abbastanza bene. Guardate che sono belle. Sono morbidissime, davvero favolose. Queste di qua, ovviamente, io le ho scelte rosa, perché è il mio colore preferito. E sono bellissime entrambi. Guardate. Non vedo l'ora di metterle, già. I vostri bambini apprezzeranno queste scarpe, ma non solo. Anche i grandi, devo dire, perché sono veramente comode per casa. Adesso che comunque arriva il vero freddo. Queste terranno un caldo. Veramente, veramente belle. E poi, non solo, volevo farvi vedere che all'interno di ogni confessione c'è un regalino per voi. Allora, abbiamo qua questo splendido borsellino, che è al suo interno. Adesso vi faccio vedere. C'è questo bellissimo bracciale. Quindi, non solo riceverete le pantofle, ma anche questo borsellino con questo bracciale. Davvero bellissimo. Poi, è davvero comodo. I vostri bambini apprezzeranno. E anche questa chiave. E questo braccialetto. Davvero bellissimo tutto ciò. Io non vedo l'ora di mettermi le pantofole. Davvero morbidissimo. Quindi, ringrazio Nixie. Adesso vi lascio il link qui sotto, così potete andare già a dare un'occhiata al sito e poter ordinare le vostre pantofole.